nome alasio cognome yardella soprannome yard presenza in giallo blu 500 dacci un tuo giudizio sulla vostra prestazione di domenica prestazione importante direi che ha preso più colpi di tutti penso che tra tutti ci siamo picchiati parecchio boh forse buon figlio cosa significa aver raggiunto 100 presenze sicuramente un traguardo importante che non avevo mai raggiunto in carriera sono molto contento quale sarà la chiave della partita contro domodossola la chiave ma sicuramente bisognerà mettere tanta intensità e difendere parecchio come abbiamo fatto nell'ultima uscita e poi starà un po a noi portare a casa i due punti in una trasferta difficile quanta voglia hai di fare sette ore di pullman puoi immaginare guarda non mi esprimo qual è la cosa che ti piace di più nel basket ma le emozioni che si provano giocandolo e qual è la cosa che ti piace di più del basket colpo più bambino la tifoseria qual è il tuo rituale pre partita quale c'è tipo 60 sicuramente prima di entrare in campo prima della riunione col coach faccio sempre tiro da tre punti prima di entrare esploratorio definisci con una parola franceschini bello camillo intelligente pedroni stupido buon figlio palestrato malfatti lungo romano lepre michele padovano unghioli iovancic serbo guerrieri capitano coach padovano coach olmo bel batacchio si può uscire dei tuoi compagni chi è il più veloce buon figlio il più scoordinato forse michele padovano il più bello bianchi il più scorretto romano il più duro con gli schemi buon figlio barra malfatti quello che si allena di più ma fra tutti non c'è uno che si allena più degli altri quello che mangia di più ma io sto in casa un malfatti e posso assicurare che mangia parecchio quello che spende di più buon figlio cantaci un coro della marea è un bombo ma l'ho detto c'è un batacchio c'è un batacchio di un metro ciao a tutti e forza basket golf